Musica Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi, come state vedendo, farò un video dove vi dirò cosa ho nel mio computer Vi mostrerò tutte le mie cartelle, tutti i miei giochi, tutte le mie foto e immagini, vabbè Insomma, vi mostrerò cosa ho nel mio computer Allora, intanto, come state vedendo, vi sto mostrando il mio computer esteticamente Che è questo qui, questo qui è il mio microfono che ho comprato da poco ed è il toner Q9 Ovviamente il microfono è questo qui con il braccio, ovviamente regolabile, quindi si può regolare Questo qui invece è il monitor, che è il monitor Samsung QLED, non mi ricordo come si chiama questo qui Sono tutti con la Q9, QLED, non mi ricordo adesso come si chiama ma vi lascio tutti i link in descrizione se siete interessati Poi questa è la mia tastiera, la tastiera Corsair, come state vedendo Che è questa qui, ho modificato i tasti WASD e tutti i G, che non ho capito ancora cosa servono ma li avrò di modificare Così sono più belli Ho ottenuto questa cosa qui, che per molti da fastidio ma io la trovo veramente comoda Il mio mouse della Razer Il mio joystick che non utilizzo molto ma per alcuni giochi mi è utile Che è questo qui dell'Xbox Ovviamente tutto il tappetino lungo che ricopre tutta la tastiera Anche questo qui per molti da fastidio ma per me è veramente comodo Le cuffie HyperX Portatelefono che lo metto qui e semplicemente si carica quindi si carica anche E nulla, questa è che la mia postazione Vabbè ovviamente c'è il case che non può mancare Che è questo qui Con le ventole RGB Poi vi dico tutte le caratteristiche dopo perché so che direte Eh ma le caratteristiche, eh ma com'è, eh vabbè che scheda video c'è montata Della RAM, tutto quanto, quindi vi dirò tutto dopo Intanto questo qui è esteticamente Ok Poi vabbè di sopra c'ho una mini mensola Con una crema da gamer che ho trovato insieme a questo che non ho ben capito a cosa serve Ma la tengo lì perché è americana Delle bobbine La scatola dell'iPhone 12 Pro Max Che avete già visto in TikTok La fotocamera Che con cui registro video ma molto spesso ti registro Dai come nulla dirlo La utilizzo molto, un poco, molto Ma più che videocamera per fare le foto, ecco Vabbè Io ho iPhone, ho il computer Windows Quindi mi servono gli adattatori, tutti quanti Le cose Sponsor, non sponsor Vabbè una semplice cassa product L'alimentatore Un Lego che non so cosa ci fa qui ma L'ho voluto mettere qui, vabbè Una bottiglia di Coca-Cola di vetro perché non le fanno più Una lacina di Coca-Cola mini che Sono belle da vedere, ok Non so che, lo so che non hanno senso Una testa di un piccolo Iron Man Che era un Funko Pop E un Iron Man che tiene in mano questo joystick Che purtroppo non funziona più Lo so, era veramente bello ma purtroppo non funziona più E infatti lo tiene lui Guardate, sta proprio con le mani Cioè questo qui in realtà è un portatelefone Però io ci metto il joystick, ok Qui sopra, qui sopra non ho quasi nulla Ho una cover dell'iPhone vecchia Con il PopSocket rotto Quindi l'ho lasciata proprio qui depositata Questa telecamerina che veramente ve la mostro un attimo Perché merita veramente di essere mostrata E storica questa telecamera Che è una telecamera Che amo tantissimo Perché? Perché c'è la telecamera con lo schermino Questo qui Che è veramente Perché c'è un'impronta Vabbè, tutta all'ercio Vabbè Ed è super comoda Perché? Perché puoi fare i video mentre ti guardi Ed è una cosa bellissima Che questa qui non ha Il problema di questa qual è? Il problema è che è troppo vecchia Che la qualità è 23 megapixel Quindi fa un po' schifio È super vecchia Soprattutto registra in videocassette Quindi chi mai la userebbe Sta lì soltanto per Così per bella vista E in più L'altra cosa bella è che Posso registrare con un telecomandino Cioè È fatta benissimo Vabbè Panasonic Non sponsor Ripeto Tutto quello che vedete non è sponsor È quest'altra che Questa qui è Canon Questa qui è Fujifilm Che fa veramente schifo È vecchissima Sta anche qui per bella vista Ma è super vecchia Guardate il mio iPhone Ciao E quindi la lascio qui Ok Se vedete la mia mano è un po' graffiata Perché è colpa del mio gatto Sapete che è un gatto E nulla Vabbè Questa qui è una Un milet Che poi vorrei togliere Cioè Per fare i video serve la luce Però vorrei anche metterci Ne uno tutti qui in torno Qui sopra Vedrò come sistemare Intanto Questo qui è il mio gatto pazzo Che sta facendo Il pazzo Vero? Sì Sta facendo proprio il pazzo Saluta No Non vuole salutare Va bene Ok Adesso passiamo Al concreto Quindi adesso vi mostrerò Proprio quello che ho Nel computer Quindi guardate qui Ho già delle cartelle Queste qui Sono le diverse cartelle Ovviamente Guardate un po' Questa qui Come già sta saltando All'occhio di tutti Non ve la posso mostrare Per motivi ben ovvi Perché ma leggete Top secret Quindi preferisco Non mostrare Tutto quanto Questa cartella La Non ve la Cartella Sì è una cartella Che ho modificato l'icona Per non farvi vedere Cosa c'è dentro Perché come vedete Le anteprime si vedono Ok Per chi me lo stesse chiedendo Sì ho lo sfondo Di windows 11 Ma non ho windows 11 Sì queste qui sono le applicazioni Che ho messo qui Ora ho messo la risoluzione 1920x1080 Per registrare lo schermo Altrimenti vedevate Tutte le applicazioni Come windows 11 Semplicemente Perché non ho windows 11 Perché non lo posso reggere Non ho ancora capito bene Perché Ma sicuramente Tra poco si Perché lo stanno migliorando E stanno facendo in modo Che lo possono avere Più computer Che non lo supportano Inoltre Il microfono con cui Mi state sentito ora È il toner Q9 Che vi ho mostrato prima Mentre Quello che avete sentito prima È quello dell'iPhone Che registra l'iPhone Ditevi se si sente bene Rispetto al vecchio microfono Lo so che faceva schifo Questo qui è veramente buono Avete presente Tipo i microfoni di podcast Dove parla Un po' così Che fanno tutti i podcast È fatto veramente benissimo Va bene Iniziamo allora Da quale cartellizziamo? Beh Andiamo per ordine Quindi andiamo nelle app Ecco qui Queste qui sono tutte le mie App Utorrent Photoshop Che ho cancellato Non lo uso più Questi due programmini Sono veramente belli È Molto Utili per me Che in questo video Non sto utilizzando Cosa fanno questi programmi? Questi programmi rendono La mia Webcam Virtuale Cioè nel senso Posso fare Una persona virtuale Ecco avete presente L'ultimo post di Instagram Che ho fatto? O la storia Dove ho visto Dove ho fatto il mio avatar Ecco Posso usare quello come webcam E così in qualche modo Voi mi potreste vedere Finalmente senza faccia Però I stile cartoon Quindi tutto è un po' diverso Però comunque è venuto identico Quindi sono più o meno io E saranno queste due app Animesator Ovviamente per sistemare Animes è proprio l'app Così per registrare Bluestacks Bluestacks Che è un'app Per Diciamo Molto utile Per il computer Che serve appunto Per mettere le applicazioni Che ha soltanto il telefono Sul computer Questo qui è il 10 L'ho cancellato Non so perché Vabbè Ne ho tanti Cinema 4D Importantissimo per noi Perché ci permette Di fare le skin Animate di Minecraft Desk screen È una vecchia applicazione Che usavo per il secondo schermo Vabbè La classica Discord Perché la usiamo tutti Questo qui è un modello Di cinema 4D E poi Guardate un po' Ci sono un po' Di cose di Java Di Minecraft C'è Forge 1.16.3 GeForce Experience Che è la mia scheda video Dopo vi dirò tutto quanto Il webcam L'ho provato Ma anzi Adesso sapete che faccio Lo cancello Perché Non mi serve Praticamente Serviva a connettere La webcam del telefono Sul computer A registrarla Ma Falimentare Molto falimentare Libre Office Vabbè Microsoft Edge Che non lo usa nessuno Excel Word 2007 Perché l'altro Sono a pagamento Scratch Che ho usato per la scuola Spark Air Player Per il mio filtro di Instagram Quello lì Che ho fatto con la mia faccia Che è Spark Air Studio Vabbè Spotify Che l'ho cancellato Non lo uso Perché c'è YouTube È comodissimo Vabbè Spotify Diciamo Più per il telefono Per il computer Non lo vedo Tanto comodo Vabbè Steam Altri modelli Di cinema 4D La Lutorent Di The Sims TikTok Seguitemi Su TikTok Mi chiamo The Trattina basso GDG Trattina basso 24 Perché ho perso Il vecchio account Twitch Studio Twitch Perché secondo voi Sì Ho intenzione di aprire un canale di Twitch E fare delle live Ma non so quando Non so come Non so nemmeno cosa farci Quindi non lo so Un torrent Un torrent cancellato Ok Lo eliminiamo Non so Visual Studio Code Un'app per programmare Che ho usato per la scuola Stiamo facendo infatti L'HTML VLC media player Che ce l'hanno tutti Whatsapp WinRar Wondershare Filmora X Che uso per editare i video E voglio prendere l'11 Che è veramente Bello Ah ho saltato Questi qui Ho saltato Oculus No Ho saltato Microsoft Teams Che non so nessuno Infatti l'ho cancellato Tutti questi bianchi Li ho cancellati OBS Studio Che lo sto utilizzando ora Oculus Che serve per il visore Ma Sì Tutto a metaverso Così fighe Ma Non è che mi fa impazzire Più di tanto Infatti l'ho cancellato OpenOffice Se volete un video Posso registrarlo E Farvelo vedere In qualche modo OpenOffice Vabbè L'ho cancellato Perché forse era Pagamento Non mi ricordo Virtualbox Che avevo provato a scaricare iOS Su Windows Ma fallimentare anche questo Roblox Studio Che non uso Sims 4 Studio Molto utile Se volete un video Per fare le mod Su dei sims Veramente bello Vabbè Sketch L'ho detto prima Cos'altro avevo saltato Nulla Ok Va bene Questa qui era la cartella app Adesso andiamo Nella cartella cartella Ci sono un po' di cose strane Un po' di file Allora Questa qui Era lo Snapchat Del 1.19 In anteprima Se volete un video Ditemelo Cartella di cinema 4D Questa qui È per fare il cursore del mouse Se non sbaglio Sì Per farlo trasparente Ma Come vedete Io scarico sempre Tante cose Ma poi non le uso mai Questa qui Non so a cosa serve Ah ok Per fare la barra Invisibile Infatti vedete La barra Delle applicazioni Invisibile Trasparente Vabbè Filmora 9 Tutte le cartelle Di filmora Grafiche fighe E guardate un po' Che belle cose Sono delle grafiche Questa qui Questa qui è una gif Si lo so Si vede un po' male Ma vabbè Sono delle Non hanno molto senso Però sono belle da vedere Quindi le ho volute scaricare Ok Poi Ambient sounds Una mod Eh Se volete vedere Tutte le mod Ecco Ma è questo Posso anche Cancellarlo Ok Mi sono spogliato Da solo Vabbè Non vi dico nient'altro Perché sicuramente Avrete già capito Tutte le mod Di minecraft Un esercizio Per la scuola Ok Modelli di cinema 4D Mod video Mod E Però è Le sigle Di pronto Jdg Fatte da Simone Totaro Pinnacle Un'altra app Di editing Vecchissima Che non uso mai Oh Una foto del mio gattino Ciao Va bene Poi Non so cosa siano Oh mio dio Eh Questa non ve l'abbiamo mai mostrata Nel vecchio canale Se un giorno Non la volete vedere Ditemelo Filtro Instagram Canzoni Mod Optifine 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 Orario della scuola Vabbè Se volete vedere Il mio orario Eccolo qui Ok Questa qui È la La cartella cartelle Adesso andiamo nella cartella giochi Che sono questi qui Allora Epic Games Non è un gioco Ma l'ho messo tra i giochi Perché è così Fortnite Allora Apro un bene la parentesi E chiudo parentesi Non ci gioco mai L'ho scaricato così Perché Proprio non Prima ci giocavo Anzi sì Ma soltanto per registrare Adesso nemmeno per registrarlo Perché Non mi piace proprio più Non ci gioco più Quindi sta lì Buttato tanto per Heyday Che ho scaricato anche da computer Ma preferisco quello dal telefono Minecraft Launcher Che non capisco perché Lo porta così Oz Laser Bellissimo Questo qui è quello vecchio Perché ci sono due versioni Se volete un video di O Suditemelo Roblox Player Roblox Studio Roblox The Sims 4 The Forest Che anche questo qui Non ci gioco mai L'ho scaricato e basta La cartella di Olof Inutile che ve la mostro Perché sono tutti file E cose così Youtube Allora Allora Non vorrei mostrarvi Questa Cartella Perché Già avete capito Andiamo su camera E vedete Tutte le foto Che ho fatto Per le mod di The Sims Che sono Il mio case Il mio cassetto Il mio armadio Il mio letto La mia coperta Il mio quadro Il mio quadro La mia postazione Qui mancava il microfono Madonna La mia postazione La mia postazione La menzola Che è cambiata Non è più così Va bene Ok C'erano altri di modelli Sono appunto quelli di che vi parlavo prima Cornice per player Per la webcam Mai usati anche questi Filtro Instagram Questo qui E c'è anche quello vecchio Che era di Thomas Che non esiste più Questo qui infatti È il video del filtro Questo sono io Che adesso saluto Infatti Ciao Grafiche Queste qui sono tutte Le grafiche vecchie Che conoscete già Green screen di Minecraft Che sono questi qui I dei video Ecco Sì Volevo provare a fare Queste case qui Guardate che bello Ma anche questo Se volete un video Lasciate un video Su queste Lasciatemi tutto Un video in descrizione Sono tutte le idee Per i video che volevo Non le hanno fatte le youtuber Le ho trovate soltanto su Google Quindi Non ne ho copiato da youtuber Ecco Sì Volevo fare Monopoli Su minecraft Ma ho detto No Non posso farlo Perché ci metto 30 anni Però Ho sempre più voglia di farlo Non so cosa fare Intro e outro Sono queste qui Ok Tutte le intro Le outro Però in video La intro vecchia La intro non so qual è Intro non so qual è Outro Finale vecchia Tutti i green screen La intro vecchia GDG di Thomas Il vecchio canale Che non esiste più Il vecchio canale Che non esiste più Madonna ragazzi Oh Beh preferisco questa Di copertina Invece di questa Sì Va bene Mod collegio Perché sul vecchio canale Facciamo il collegio Mamma mia Pronto GDG E ci sono qui Un po' di gra Eh Ho spoilerato Ho spoilerato Ho spoilerato Oppure no Non so cosa state vedendo Perché io posso Con l'heading coprire Però C'è uno spoiler Di un ospite Molto Che non vedo l'ora di fare Anche qui sto spoilerando Grafiche Queste qui posso tranquillamente Mostrarvele Sono queste qui Mod Non so cosa sia Outfit Sì Con le skin Adesso Le sigle Che sono queste qui Questa cosa Che state vedendo Censurata Non posso farvela vedere Sì Avevo censura di fare Una cosa così Ma vabbè E nulla Queste qui sono altre foto Del set Skin E qui troviamo Tutte le mie skin Ecco Questa qui Mi ha fatto Thomas E la schiamata E la schiamata Francesco pazzo Non so perché Non c'è nulla di pazzo Ma vabbè Ok Io con la spada Tutta la skin Strane Fatte un po' male Questa qui di Thomas Poi ci sono tutte queste altre Qui perché Mi ha impazzito Per fare Il banner Non vi dico Quanto tempo Ci ho messo Per fare Perché devo E infatti Lo vedete un po' così Ma voi vedete Questa parte qui Ci ho messo un'eternità Troviamo Questa qui Che è appunto L'avatar Che ho fatto Che io sono veramente così C'è chi mi conosce Nella vita reale Sa che sono veramente così Gli occhiali non sono così Sono un po' Rotondi E non sono neri Sono grigi Ma La faccia è identica I capelli anche Tutto quanto è identico Questa qui è la copertina Che avevo fatto Per il mio compleanno Questa qui è una skin a casa Non so perché sta qui Il mio vecchio banner Che preferisco Quello di ora Canzoni Altre Sì sto sorridendo Vabbè E mod Green screen Perché c'è una parte Dove c'è green screen In VHS Perché se vi serve Per dei video Questo E' un video Parodia di Shrek Se la volete vedere Ditemelo perché Non l'ho voluto caricare Casomai Mi davano il copyright O cose simili Però se la volete vedere Ditemelo Questa qui era L'app youtube Queste qui sono Gli sfondi Eccoli qui Gli sfondi Bellissimi Io mi le sfondi Questo qui Mai usato Questo qui Mai usato Questo qui L'ho usato soltanto una volta Perché ne ho vediti tanti Non so quale mettere Infatti ho fatto anche Le storie su Instagram Ma quale volevo mettere C'è da impazzire qua Questo qui Bellissimo Perché sono tutti belli Non so quale mettere Questo Questo qui Non l'ho mai usato Questo è bellissimo Questo Non mi ricordo Perché non l'ho messo Questo qui Non mi piace così tanto Però comunque lo tengo Perché è carino Questo è bello Questo è bellissimo Il 1920x1080 Questo è bellissimo Questo per notare Questo è bellissimo Questo È brutissimo Da dove sto facendo Sto sfondo E la macchina Di ritorno al futuro Perché sono un appassionato Di ritorno al futuro È quello che ho No Non ho quello che ho Ho quello che avevo Prima di quello di ora Che è bellissimo Anche questo Davvero ho tenuto Per un sacco di tempo Cosa sto vedendo Cosa sto vedendo Che ero uno sfondo Creato su Minecraft Non mi piace più di tanto Ma lo lascio Ok È quello che ho Ok Di Windows 11 Poi Vabbè Qui c'è la carta Stop Secret Che non posso mostrarvi Questa qui È la mia barra Delle applicazioni Ok Va bene Oggi È il 18 No Oggi è il 4 aprile 2022 Non so quando state Vedendo questo video Questo allora Di questo momento In cui sto registrando Sì andiamo qui Troviamo un po' di cose Vabbè Troviamo tutte le cose Qui Vabbè 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 So che volete vedere Tutte le caratteristiche Tutte le cose del computer Quindi andiamo su sistema Va bene Dai Nuovo dispositivo Questo Qui ma chi se ne frega Poi l'accessor Intel Core i7 RAM 16GB Vabbè Di dispositivo Vabbè Windows 10 Pro Tutte queste cose qua Non ci interessano Io adesso Vi mostro La mia Bellissima scheda Video Ecco qui Allora State vedendo Intanto controllo OBS Per vedere se si vede Sì si vede Ok Allora Io sto in attività Questa qui Vabbè Ovviamente Ho già BBS aperto Prestazioni Allora Questa qui Vabbè È la mia CPU Intel Core i7 Come vi sto dicendo Prima La Memoria Che è Questa Qui Di 16GB Beh Ethernet Ok Perché sto con il cavo Ethernet È la GPU Che è questa qui È la GTX 1070 Sì perché la mia scheda video È la NVIDIA No NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1070 Lo so che fa un pochino schifio Ma comunque a me va bene Quello che vorrei fare infatti È cambiarla E prendermi la Non lo so La 2060 Non lo so quale prendermi Poi vedrò Vorrei comunque cambiarla Vi mostro il programma Con cui faccio le copertine Non me l'ha chiesto nessuno Lo so Voglio mostrarvelo Allora C'ho Mila account Ma sono quelli della scuola Il mio personale Tutti i sensuali Perché non potete vedere nulla Allora Il sito che io uso È questo qui Eccolo qui Canva Il mio sito è Canva Con cui faccio tutte le mie Bellissime copertine Per i video Prendiamo qui Miniatura YouTube Ma no Aspettate Devo prendere la foto Della No Cosa faccio Come copertina Ecco Perché poi devono esserci anche le idee Come copertina Mi sa che metterò L'immagine Della mia postazione Con Non lo so What's on my pc Ok Eccomi qui Sono andato a Stoppare la registrazione Per caricare le foto Della mia postazione Per fare la copertina Sì perché Me la invio con whatsapp Perché non posso Cioè Posso si attivare il cavetto Però ci metto 30 anni Devo Devo trovare il file giusto Un casino Devo aspettare Con whatsapp Metto whatsapp La invio a qualcuno A me stesso Trascino il file su desktop E il gioco è fatto Oppure con le mail Va bene Ma ora carichiamole Eccole qui Sono un bel po' Quindi Sono quattro Non sono un bel po' Scusate Sono quattro E sono state fatte Da iphone Quindi Non so nemmeno La risoluzione Se è giù E infatti Non è giù Mannaggia La risoluzione è sbagliata Si vede pure la televisione Qua dietro E la macchinetta del caffè qui Va bene Tutto normale Tutto normale Tutto normale Com'è che faccio adesso Allora intanto Vorrei mettere Questa Magari è un po' tagliata Magari tagliamo anche la televisione Magari tagliamo anche la tenda Ecco Tutti sti figli Quando mi piacciono Ecco E perché si vede male? Perché si vede male? No spero che Va bene Facciamo la cosa Facciamo così Facciamo Postazione E vediamo quello che è Facciamo così Facciamo Compute Ma io non voglio Allora Ho un'idea Ho un'idea Ho un'idea Mettiamo Uno bellissimo sfondo verde Che è il mio colore Come sapete No però non mi piace Questo verde Mettiamolo così Ecco Voglio mettere La mia skin Perché c'è l'occhio così Sì perché C'è l'occhio 4D Gli occhi abbassi Quindi io le pupille le levo Però Un casino E c'è la parte così Quindi cosa faccio io? Già Intanto facciamo così Poi così Perché voglio fare Quell'effetto che esce Dal qua Faccio così E poi così Eccola fatto Poi la mia faccia Gliela metto Attaccata di sopra Ok Ma è 15 gradi questo quant'è? 15 gradi 15 gradi anche questo 15 No Perfetto Adesso Andiamo poco poco Leggermente Perché È un casino Infatti L'ho giaccata a prima botta È perfetto Zitti che è perfetto Ok Vediamo È perfetto No aspetta Così No non è perfetto Ma Come l'avevo messo prima Stava bene Mannaggia me quando tocco Oh Allora Qui volevo mettere Tipo la cosa Però aspettate È un po' più piccola Ecco È un po' più girata Ecco È un po' più Così 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 Sì ragazzi Lo so Non mi decido solo Vabbè Vorrei mettere Tipo la cosa dei fumetti Nuvola Fumetto PNG PNG Vabbè Eccola Eccola E PNG Non va bene qui Va benissimo Non è PNG Quanto mi dà fastidio Quando vedi qua così Allora sapete il trucco qual è Se è bianco E poi lo apri Con i quadratini È un PNG Se è già così Non è PNG Tipo questo qui Non è PNG Questo qui nemmeno E questo qui nemmeno Questo qui Non è PNG 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 Ehm Buongiorno Questo qui Non è PNG Questo qui Non è PNG Questo qui Non è PNG Quanto mi dà fastidio Quando non trovo I veri PNG Oh zitti che l'ho trovato Zitti che l'ho trovato Però è un po' rotondo Ma volevo così Ma va bene Ce lo facciamo a piacere lo stesso Va bene Dai dai Se faccio così No 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 Facciamola così Non facciamo ulteriori Problemi Allora deve essere così Poi così E poi così Poi Visto che di dentro è così Facciamo così Poi così E poi così Lo spostiamo indietro Ecco Poi facciamo così E poi così E poi così Ok allora Testo Eh ovviamente tutto questo Perché è bellissimo Allora cosa Scriviamo Scriviamo What's on my pc Ah no Lo scrivo Ok Lo facciamo leggermente più piccolo Perché così mi sa che non entra Perfettissimo Come lo lasciamo Verde, bianco, rosso, blu Quanto mi dà fastidio Le cose quando sono storte Eccolo qua What's on my pc E poi Non so se sentite le campane in sottofonda Ma ci sono le campane Vabbè Ehm Mettiamo questo qua Il mio monitor è wide Quindi voglio un monitor wide Non lo voglio il monitor così Non lo voglio il monitor così Voglio un monitor wide Come il mio Non lo voglio in 16 Mamma mia Ecco forse questo è il mio Sì No Sì Non lo so Allora il mio è così Però Non mi sembra il mio dal monitor Cioè il piede è questo qui Il mio si chiamava Mi ricordo che si chiamava Koolhead Una cosa del genere Eccolo Eccolo Questo è il mio Questo è il mio Questo è il mio E' anche un PNG Quindi forse va bene Non ci credo Non ci credo Aspettate 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 Ok Ci siamo Ecco il mio Se venite a casa e vedete il mio computer È veramente così È veramente così È proprio il monitor Come abbiamo mostrato prima Non ci credo È fatto benissimo È fatto benissimo Voglio provare a mettere anche il cestino Cestino Windows PNG Eh peccato che non c'è il mio Perché il mio è questo Dimmi che è un PNG Non ci credo È un PNG No È un PNG No È un PNG No È un PNG No Mamma mia Quanto mi arrabbiano queste cose Voglio un vero PNG E non mi metto di vestito E poi è un fake Voglio i veri PNG Va bene Che li voglio i veri Basta Non voglio vedere queste cose PNG Dai uno non ce n'è Davvero Ma davvero Non ce n'è uno Dai Ma uno Oh E il PNG È vecchio ma Purtroppo Devo mettere questo Perché Perché non fanno il mio Così Perché Perché non lo fanno Manca la scritta Cestino Ma io sono stupido Potevo fare la stessa Dite lo che sono stupido Dite lo Vabbè Facciamo una cosa Ma lo mettiamo proprio Ecco L'immagine fatta Perché non è un PNG Era bellissima Sta scrivania No Non è un PNG Ma perché Che vi costa Farla in PNG E pubblicarla Non è della prospettiva giusta Bella Carina Ci piace No Non copia l'indirizzo Dell'immagine Copia immagine Ecco E qui vorrei metterci qualcosa Però per esempio OBS Adesso metto un po' di app Che ho veramente Quindi OBS Ma perché Mi fate questo Voglio Una Cosa OBS Non è così Instagram Instagram Eccolo Se lo sono anche visto Ovviamente Questo qui Lo provo Per vedere Chi ha fatto Sta cagata Cazzesca Beh ecco Questo qui voglio fare Qui Però Pagamento Mannaggia Loro Sì perché c'è Canva Pro Ed è pagamento E bisogna abbannarsi Non mi va Però voglio il logo No Chi ha fatto Ah ok Si può modificare Oh Si può modificare Calmi calmi Tutti calmi Siamo tutti calmi E rilassiamoci un po' Ai baby luni Dun Non si può dire Di no Andiamo a casa Di no Vuoi giocare A palisa Siamo E gridiamo Ura E non è così Oddio forse si Eccolo E' così Quanto io amo Questa applicazione Voi non avete idea Eppure PNG grande Wikipedia Quanto io l'amo Voi non avete idea E' fatta benissimo Che la usano tutti E chi non la deve usare Io 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 non la devo usare Tutti gli altri Con il Mac online Con l'iMac No Io l'unico con Windows Che usa Filmora E quindi Vabbè Vabbè Il nostro video finisce qui Con questa capostina Che probabilmente Vedete questa qui Perché sarò Che sarà questa qui Ok Nulla Ci vediamo nel prossimo video Iscrivetevi Commentate Lasciate un like Il mio canale YouTube Guardate un po' C'è anche il logo di YouTube Ci vediamo nel prossimo video Ditevi se volete vedere Degli altri video Riguardo a qualche app In particolare Non so Qualcos'altro Come faccio le skin animate Con Cine 4D Piuttosto che Come faccio Le copertine Che oltre a quelle Che avete visto ora Non lo so Scrivermi in commento Qualche video Che volete vedere Vabbè Nulla con questo Vi saluto Ci vediamo nel prossimo video Perché il video Sto durando davvero troppo Non so quando uscirà Nulla Ciao a tutti